Sabato 5 ottobre, my wife, così dice nipote, qua ti volevo, e mai, e mai, ma queste sono video, non sono fotografie, non parte facilmente il flash, prego 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 passate, sono video iscriviti al canale e attorella se spegne luca ci sono io grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedo che non è assolutamente bisogno. Tenerla venghi verso di me, venghi? E allora facciamo una lunga ripresa, molto realistica, un reality proprio. Ma chi me l'ha fatta? Eh infatti, la stragrande maggioranza degli escursionisti che arrivano in vetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.